E' un'esperienza che coinvolge i giovani, non solo come persone che partecipano, ragazzi che partecipano, sono protagonisti, si sentono protagonisti. E' un grande brand, l'OE Gifoni Festival, l'OE Gifoni Experience, ormai è un brand internazionale, vale per quello che ha fatto Cubitosi e tutti i suoi collaboratori. E' un brand campano, siamo orgogliosi che sia realizzato in campagna, è la regione più giovane d'Italia, quindi a maggior ragione ospitiamo questo evento, lo valorizziamo al massimo. Ci crediamo, ha ormai un respiro internazionale, quindi è bene che si espanda anche nel mondo, ci hanno fatto con l'assessore Migliari di Cubitosi una serie di esperienze, di incontri che hanno ulteriormente ingrandito la partecipazione. Quindi, giovani, ottimismo e futuro, queste mi pare le condizioni migliori. E' una bella idea, pensare che i giovani di Terra dei Foghi possono avere accesso senza i regolamenti, quindi con una quota libera di partecipazione, quindi è un segnale importante di questo evento, i giovani e di Terra dei Foghi sono il riscatto di quel territorio, le istituzioni, la presenza a Caivano di un'iniziativa di presentazione dell'evento del 2014. Sono tutti segnali forti di una realtà che guarda con fiducia alla crescita, essendo giovane, rivolte ai giovani, e quindi a maggior ragione è un segnale forte in quella terra, che chiaramente è un momento difficilissimo. Stiamo tutti vivendo un momento difficile per dare un segnale forte di cambio, di passo, di svolta reale, di tutela dell'ambiente, che per la Campania è il nostro grande brand, anche quello, quindi dobbiamo salvaguardarlo al massimo.